Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere, non vedere, vi spiego come tenere bene i golfis che anche detti testa di leone. Ragazzi, innanzitutto mangiano verdura, uova. Di verdura mangiano piselli, broccoli e insalata. Poi l'uovo cucinato, però non mi ricordo come andava fatto. Anche quando sono piccoline le scaglie. Comunque, aspetta un attimo. Perché non voglio fare pubblicità. Questo, io questo gli do di scaglie. Questo, vedete. Questo qua. Comunque tanto sono così. Voi faccio vedere. Ecco poi. Esco di tanto, sono così. Io... Solo... Tantico, di solito io ne do mezzo cucchiai, no? Tipo così. Ecco. Io così ne do... Ragazzi, intanto lo... Potete, tipo, io vi do un consiglio. Immaginatelo. Tipo così. Anche con il cucchiaino, sì. Può fare così perché faccio. Però, poi quando diventano grandi, potete dare le verdure. Perché a me le verdure non me le mangiano. Ho provato con tutte le cose, giuro. Però si possono dare anche le scaglie, non c'è un problema. Quando sono piccoline e da grandi, mangiano tranquillamente le verdure. Non sono... Se mi fate questa domanda, commentate di solito, ragazzi. Fatemi delle domande su che video volete, che faccio, tutto. Fatemi. Se mi fate questa domanda, non sono pesci rossi. Sembrano, ma sono... Innanzitutto, grazie. Perché sono grazie. Quando sono grandi, diventano grandi. Possono vivere anche 15 anni. Quindi, ve l'ho detto tutto. Possono vivere tanto. Se tenuti bene, possono vivere un sacco. Comunque, ragazzi. Io, come pesci, se mi fate anche quest'altra domanda. Quanto l'ho pagato? Io, in un negozio, l'ho pagato 3,50. L'uno. Ragazzi, non c'è solo la specie. Con gli occhi, così. Con gli occhi piccolini. E i goldfish. I testa di leone, invece. I goldfish sono quelli con gli occhi così, giganteschi. I goldfish. Invece, testa di leone, sono... Hanno tipo la testa. E hanno un cusso di sopra. Comunque, ve li metto verso la fine. Vi faccio vedere quale sono. Ecco, ora l'ho immaginato. Ecco, anche così lo potete fare. Ecco, ora, come l'ho immaginato, bene. Perché io non è che gliene do tanto. Se gliene do... Non gliene do tanto. Ecco. Vedete? Vedete? Sono pesci molto belli. Dipende però la specie. Non è che costano 3,50. Dipende anche il negozio. Dove andate? Dipende la specie. Tutto dipende. Io ho pagato i 3,50. Però ci sono anche quelli amici. Quelli adulti che costano il più. Però io lo pregoci perché a me piace che... Si vede che crescono. Comunque, ragazzi, ve li faccio vedere verso la fine. Vi metto qui. Quando finisce il video si vedono tutte e due le specie. Io con le coi occhi giganti le specie ci sono. Rossi. Dipende però. Io ho quelle che aveva al negozio. Vi dico. Rossi e neri. Con dei puntini neri. Con dei puntini neri. Bianchi e rossi. Neri con gli occhi così. Grandi. Proprio gonfi saranno. E anche rossi e bianchi con gli occhi gonfi. Però ragazzi, io ho preso due specie diverse. Perché quelli con gli occhi grandi sono golfis. E invece testa di leone sono quelli che hanno tipo la testa e hanno dei coi qua sopra. Non mi ricordo come si chiama. Comunque, verso la fine, vevi pubblico. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Mettete like. E mandatemi dei commenti. E ditemi cosa volete. Che video volete che faccio. Ciao ragazzi, ci vedremo nel prossimo video. Ciao. Ciao. GAMFIR E GARFISH GARFISH Agli occhi Agli occhi normali. I testi di leone sono questi qua. Perché hanno la testa, guardate, Che tipo tutta questa cosa, Che questa grossa terra sopra. Comunque, ragazzi, Questi qui sono i pesci. Questi qua. Tutti e due questi sono i pesci. Quelli che ho io almeno. Questi sono quelli che ho io. Poi, non so quale sono. Ce n'è altri comunque. Ciao ragazzi, al prossimo.